Abbiamo capito, le mascherine dobbiamo comprarcele, commentò così lo scorso primo aprile un EBA Veneto a margine di un incontro con il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin. Erano i mesi caldi della pandemia caratterizzata dalla carenza di dispositivi di protezione, soprattutto mascherine FFP2 chirurgiche per il personale delle strutture per anziani e per gli ospiti. Un EBA decise di provvedere da sé raccogliendo le necessità dei 30 enti consorziati in Veneto, tra questi l'azienda speciale Sedico Servizi, incaricata di redigere il bando per l'acquisto della fornitura, 28.000 FFP2, 25.000 mascherine chirurgiche, provenienza Cina. Una partita di quei dispositivi è finita sotto sequestro. Lo scorso dicembre il blizza dei NAS di Treviso ha notificato a un EBA e a Sedico Servizi la necessità di verificare la regolarità della fabbricazione e l'utilizzo delle FFP2. Le notizie che abbiamo sono sicuramente poche e anche per rispetto della magistratura insomma ecco abbiamo, per ora stiamo alla finestra. L'obiettivo primario era quello di salvaguardare l'incolumità degli ospiti in primo luogo e degli operatori. Sono stati fatti degli acquisti, da quello che mi si dice insomma durante quel periodo, un acquisto collettivo su cui adesso la magistratura parrebbe, abbia messo un po' il naso e stia cercando di approfondire la questione. Nel sito di un EBA si legge che il referente del bando per l'acquisto di quella partita di mascherine provenienti dalla Cina fu la direttrice di Sedico Servizi, Daniela Piccoli, che oggi abbiamo cercato senza fortuna per conoscere i particolari e il prezzo spuntato che un EBA scrive essere stato ragionevole. Le mascherine vennero depositate nel magazzino della Sedico Servizi e lì dovrebbero essere state intercettate dai Nassa di Treviso. Il riservo degli inquirenti per ora è massimo. L'auspicio del sindaco di Sedico è che venga fatta chiarezza al più presto anche per la serenità dell'azienda speciale che gestisce la casa di riposo di Sedico. Nella prima ondata della pandemia quando sono state usate queste mascherine non ci sono stati casi né tra i dipendenti né tra gli ospiti. Nella seconda ondata c'è stato un piccolissimo focolaio ma sono stati sette ospiti contagiati che sono guariti. Di fatto rispetto ad altre strutture Sedico Servizi ha avuto un impatto minore del Covid. ecco Grazie a tutti